Il terzo trimestre del 2020 farà registrare un aumento del pilo italiano dopo il minimo della recessione del secondo. Lo evidenzia il rapporto congiuntura flash del centro studi di Confindustria. La risalita però è stata parziale e i rischi che si affivolisca sono alti. Secondo Confindustria il freno post lockdown è la domanda che resta bassa. La produzione industriale a giugno ha registrato appena un più 3,9 dopo un buon recupero di maggio e per Confindustria il numero cui guardare è il meno 16,9 dei livelli pre-covid. A luglio 2020 l'Istat stima una leggera flessione del clima di fiducia dei consumatori rispetto al mese di giugno 2020, da 100,7 a 100. Invece l'indice composito del clima di fiducia delle imprese sale per il secondo mese consecutivo, passando dal 66,2 al 76,7. Le componenti economica e futura del clima di fiducia dei consumatori sono in diminuzione, mentre cresce la componente personale. Sul fronte delle imprese le stime evidenziano un aumento della fiducia diffuso a tutti i settori, in particolare nel manufatturiero, nelle costruzioni e nel commercio al dettaglio. A giugno cresce l'interscambio con i paesi extra UE. Secondo i dati Istat l'aumento su base mensile delle esportazioni è stato del 20%, quello delle importazioni del 14,9%. Il forte incremento dell'export è dovuto soprattutto agli aumenti delle vendite di beni di consumo durevoli, strumentali e intermedi. Le esportazioni segnano una flessione su base annua ancora marcata, meno 15,6%, ma in decisa e attenuazione rispetto al meno 31,5% di maggio. Negli ultimi anni le vendite di batterie e accumulatori portatili nell'Unione Europea sono rimaste relativamente stabili, da 176.000 tonnellate nel 2010 a 169.000 tonnellate nel 2013, prima di salire a 191.000 tonnellate nel 2018. La raccolta di rifiuti di pile e accumulatori nell'Unione Europea è invece aumentata da 55.000 tonnellate nel 2010 a 88.000 tonnellate nel 2018. Lo rivela Eurostat. Il tasso di raccolta differenziato di batterie e accumulatori portatili è aumentato quindi dal 35% nel 2011 al 48% nel 2018. Tra gli stati membri dell'Unione Europea la Croazia ha registrato il più alto tasso di raccolta, 96%, seguita dall'81% della Polonia e dal 69% del Lussemburgo. L'Italia è sotto la media UE con il 36%. Grazie a tutti.